Ben ritrovati amici di Ciao Como, un nuovo appuntamento con il meteo. Oggi siamo a Villa Olmo perché è proprio tra pochissimo l'inaugurazione della nuova mostra Ritratti di Città. Fino alla 16 di novembre si potrà venire a visitare la mostra all'interno di Villa Olmo. Ci sono opere di artisti come Boccioni, Bala, ma anche Pomodoro e tantissimi altri. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Como, ma anche sul sito dedicato alla mostra Proprio Ritratti di Città. Inizia il weekend a Comasco, questo sarà un weekend all'insegna del maltempo con incursione di piogge e temporale a partire già dalle prime ore di questa sera. Non sarà diverso il sabato la domenica perché ad ampi spazi soleggiati si alterneranno piogge e probabili temporali anche intensi con temperature che non supereranno i 23-24 gradi. Questo per il maltempo proveniente dal nord atlantico. Diversa invece la situazione al sud dove torna l'estate con temperature anche intorno ai 37-38 gradi. Invece l'inizio di settimana prossima per il nord Italia sarà ancora all'insegna dell'instabilità. E questa settimana per l'appuntamento dei Proverbi Comaschi mi trovo in compagnia del signor Angelo e della piccola Martina per il Proverbi della settimana. Il puro dialetto Comasco, quasi. Se il bisbino porta il cappello, tutta la gente porterà l'ombrello. Se il bisbino porta il cappello, tutta la gente porterà l'ombrello. Proprio il caso di dirlo probabilmente ci saranno delle piagge durante questo weekend. L'appuntamento con il meteo tra Proverbi e storia continua settimana prossima. Seguiteci su www.ciaocomo.it. Un saluto speciale alla piccola Martina e al signor Angelo. Grazie. Buongiorno. Grazie.